è una delle cose più belle che tu possa fare la musica prima volta a Sanremo sicuramente ero emozionatissima so che può essere una risposta cliché però è così è un posto che ha una sua energia particolarissima e che tira fuori una forte emotività nelle persone la prima volta che ho pensato che la musica potesse diventare un lavoro è stata penso la mia prima volta su un palco davanti a tante persone e soprattutto quando ho portato delle canzoni mie delle canzoni anche in portoghese ho capito che comunque il pubblico nonostante la differenza linguistica aveva una connessione con me si era creato qualcosa quindi da quel punto in poi ho detto ok può essere concreto questo sogno la prima volta al volante mi ha portato molto lontano uno dei primi mesi in cui avevo la patente ho deciso di andare con i miei amici in puglia avevo penso la patente ormai da un paio di mesi decido di fare la prima parte del viaggio io al volante ho guidato circa sette ore di fila vuol dire che guidare mi rilassa anche perché nel mio quotidiano non mi capita spesso mi piace mi piace scegliere la playlist mi piace tutto il cerimoniale dell'andare in macchina del road trip in generale